Ed ecco come un sempliciotto passa dalla carriera di tassista a quella di mafioso. Fortuna? Io non la vedevo così. Parcheggiare proprio in quella strada, fare una pausa quando Poli e Sam giravano l'angolo, era strano. Un po' come... Non lo so, come se fosse destino. Se ti fa sentire meglio, credici, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Dunque, voglio dire, un giorno ti spacchi la schiena lavorando onestamente in una città che cerca di schiacciarti fin da quando sei sceso dalla nave. E il giorno dopo hai le tasche piene dei soldi sporchi di Salieri e dai ordini agli altri. Non esattamente. Allora Salieri non controllava la città. Per ogni dollaro incassato da lui, Don Morello ne guadagnava dieci. Corrompeva sbirri, politici, giudici. Se non riusciva a comprarli, li soggiogava con la paura. In effetti aveva terrorizzato l'intera città, te ne do atto, certo. Hai sentito parlare di Joy Crackers? Sì, compare nel fascicolo di Morello, il pugile, vero? Già. Proprio lui. Da quello che so, Joy stava andando ad allenarsi. Fantasticava sulla conquista del titolo. Che diamine! Coglione! Ma cos'è qui di con gli occhi chiusi? Guarda qui! O Gesù, Giuseppe e Maria. Don Morello, io non sapevo. Conosci qualche aucio che ha una macchina come acquista in città, Joy? No. E a me dispiace molto. Andavo troppo piano. Puoi dare la colpa a me? No, 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 signore. È solo che... È solo che non ho mai fatto incidenti. Ah, beh. Il suo danno è molto grave. Non ce ne sarà bisogno, signore. Le ruote sono a posto. Il radiatore è un po' maccato. Mio cucino... Mi sa che qualcuno ti ha rifilato una palla. Secondo il mio informatore, Morello faceva una fortuna quando Joy Crackers saliva sul ring. È vero anche quello. Eppure, Morello ha lasciato quel poveraccio, morto in strada, con la testa fracassata. Non ha senso. Magari sapeva che la carriera di Joy era finita, oppure voleva spaventare quelli che non pagavano il pizzo. Don Salieri diceva che quando Morello si arrabbiava, perdeva la testa. Tu hai avuto altri scontri con gli scagnozzi di Morello? Non subito. C'è stato un periodo di calma per un paio d'anni. Abbiamo avuto delle scaramucce con dei tipi che facevano i duri, ma in generale filava tutto liscio. Contrabbando, la protezione, mi e i ragazzi andavamo a riscuotere in giro. Però, sarò sincero, molte volte pensavamo anche a spassarcela. Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Sì, terrà una corsa, sai? Oh, sì, 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 sì. Puli e Sam hanno scommesso soldi su... Mikey Dunn. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma ha una testa calda e ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mikey è venuto a chiedermi un prestito. Voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla calma. A me piacciono le auto veloci. È una specie di hobby. Si è rivelato un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero uno. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Ma adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del guardiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mikey che hanno scommesso tutti. Potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Vai ad esclusione di Morello. Crede e punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo? Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Direbbero che la corsa è truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte. Prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo. Sara, puoi portarmi un drink? Quando puoi? Certo. Tuo padre te lascia libera per la corsa. Scherza. Mi tocca... ...aiutarlo a traslocare l'intero bar sugli spazi. Eccoti, mezza minchia! Che fe ne hai fatto ieri sei? Ero con te. Tu avviati, Tom. Aggiorno io questo coglione. Sono cinque e sei. Buonasera, Tommy. Allora sono cinque e sei. Ehi, Tommy! Il grande giorno si avvicina. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello le sue vittorie. No, signore. Gli manderà un messaggio. Così, stanotte, prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo. Il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo. C'è un altro tipo poi. Lucas Bertone. Devi portargli l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su. Renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta. Perché il turno di Bobby finisce all'una e mezza e il suo collega è uno stronzo. Oh, ehi. Se ti serve un posto dove mettere al sicuro le macchine lontano da gente indesiderata, usa pure il garage. Finalmente Carlos si è deciso a liberarlo. Beh, buono a sapersi. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Metti pure la tua auto in garage. Non c'è nessuno. Gli amici di Ralfi sono amici miei. Se hai soldi, certo. Domani mattina si riempirà di gente. L'intera città. Contrabbandano i cuori. L'ho... Cristo! Domani mattina si riempirà di gente. L'intera città. Contrabbandano i cuori. Lottano. Che palle. Oh, andiamo. Dimmi un posto migliore. Ok, ci siamo. Eccola qui. Carrozzella serie C del 1929. La migliore. È un peccato sabotarla. Se mi beccano gli sbirri, inizieranno a fare domande. Ho visto che ti raggiungano. Cerca di evitare danni, ok? Devo tornare da Bertone entro l'una e mezza prima del nuovo guardiano. Sì. È un ostroncio. Lo sa? No! Sì. È un ostroncio. Sì. È un ostroncio. Sì. È un ostroncio. Sì. È un ostroncio. Che giuranza. Sicari hanno un mutuo d'auto ad China Town. Aspetto, risposta. Estotto. All momento. Andate a prenderlo. Attenzione, abbiamo aperte le tracce a China Town. Continuate a cercare. E' sparito. Tornate ai vostri compiti. Lo prenderemo un'altra volta. Eccoci. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, guarda qui che gioiellino. Non c'è molto tempo. Ehi, io lavoro in fretta. Resta qui. Ciao, bellezza. Ok, è pronta. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Ehi, puoi dire al signor Salieri che io sono sempre disponibile? Collaboro con tanti, è vero. Ma voi rimanete i miei clienti speciali. Autocad. Le fughe. Ogni cosa a questo prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Per il bene di tutti. Ok. Guida con prudenza. Speriamo che il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Signalano un'auto da corsa che sfreccia per la strada della città. Qualcuno di voi la vesa. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Speriamo che il ragazzo di Salieri è il ragazzo di Salieri. Allora, alla fine si mesce dal bagno Io sono lì che prego che abbia portato un ferro E non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzionato i bagaggi A questo punto i suoi figli si avvicinano Quei due si scrucchiano le dita Quelli erano energome Erano energome neanche i tuoi metri Cosa vivi dietro? Il mio uccello Hai capito? Questo pazzo bastardo è uscito dal bagno E ha iniziato a pisciare tutto quello che ha Non ha chiamato gli sbirni A volte basta fargli credere che sei pazzo John, avresti un momento Certo Frank, abbiamo un piccolo problema Il capo sta bene? Oh sì, niente del genere Mikey Donnie il pilota È stato pestato per bene dagli scagnozzi di Morello Braccio rotto, macella rotta E in ospedale insomma Ah, Gesù Già brutta storia per Mikey Comunque correrai tu al suo posto Aspetta, come? Frank? Manca soltanto mezz'ora alla partenza Non c'è niente da discutere Il Don vuole vincere Ma più di ogni cosa vuole che Morello perda E tu sei il miglior pilota che abbiamo Altrimenti l'avrei chiesto a qualcun altro Sì Ok Frank Bene Ralfi ti aspetta con la macchina pronta Scendi subito in quella pista Direttamente dall'Europa Il grande campione Martin Lichtenberg Si è preso una pausa dalle gare internazionali Per correre oggi qui con noi Ecco la griglia di partenza Il favorito di Lost Heaven Mikey Dunn non parteciperà Lo sostituisce Tommy Angelo Beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna I piloti sono schierati Sono pronti a partire Partiti Lichtenberg è nei guai La tua macchina ha qualche problema Lichtenberg si ritira Il favorito è fuori dai giochi Chi sopravviverà alla famigerata Prima curva del circuito di Lost Heaven Ti stanno compattando E vedo che dei testa a testa Questi piloti vanno sul serio Non si ridicheranno A qualche graffio alla caratteria Speriamo che in gara non ci siano incidenti I piloti in testa lottano senza esclusione di colpi La corsa è tutt'altro che finita Chris, mi prendi in giro Tommy Angelo, prende il comando Tommy Angelo è al primo posto Ma ci resterà Anderson e Garcia sono secondo e terzo E aspettano un errore di Angelo Nuovo arrivato Tommy Angelo E ancora in testa Prima auto Sprecciano al secondo giro Baylor Prende il con Angelo È una lotta cerrata Ma c'è ancora tempo Lichtenberger fuori dai giochi Il trio in testa Lotta per la prima posizione Chi riuscirà a sorpazzare Il velocissimo Tommy Angelo Sarà questo il podio O qualcun altro troverà Il proprio momento di gloria Il gruppo di testa Lotta per la prima posizione Angelo è ancora in testa Riuscirà a arrestarci Il gruppo di testa Inizia l'ultimo giro Anche poco alla fine della corsa Alcune auto Stanno iniziando ad allungare Le distanze E' chiara quella di oggi Abbiamo visto piloti pazzeschi L'uscita di Lichtenberg Ha fatto riaccendere la gara Ora tutti puntano la vittoria Chi ha bisogno di Paiketan Il ragazzo è un ottimo incasso Il ragazzo è un ottimo Un caolloure Non ci v'argo Non ci soccuso Grazie a tutti. Ecco qui il nostro campione. Ehi Tom, volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto di sei mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Bene. In qualche modo dovrò sdebitarmi. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Va bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso. Ci hai fatto fare un sacco di soldi. E Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E dov'è l'europeo? Starai indossando un paio di scarpe di cemento. Tieni. Sei meritato ogni centesimo. Porta fuori la tua ragazza. Grazie, capo. Bevete, ragazzi. Ce l'hai, vero? Non buttare tutto in polcanera. Sei stata grandiosa, eh? Salute. No, no, però regalerò a mia madre un cappotto. È bravo, ragazzo. Adesso va a farti un drink. Le mie congratulazioni, campione. È stata solo fortuna. Ah, sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi... Devi offrire tu. Ecco, ora sei pronto per le fotografie. Grazie. Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così sbronzo che lo investirebbe un'autoparcheggiata. Sì, ok. Lo riporto a casa sano e salvo. Lo fai sembrare facile, Tommy. Quando vent'anni fa sono iniziate le corse, molti piloti non variavano nemmeno il traguardo. È tutto merito del motore, Ralph. Io sterzavo e basta. Hai regalato a mia figlia un altro anno di retta scolastica, Tom. Ehi, farei di tutto per voi. Beh, goditi il momento. Ma occupati di Poli prima che faccia sfigurare se stesso e la famiglia. Non lascerò... E anche quest'anno è finita. L'autodromo sarà aperto fino alle 6. Ti preghiamo di lasciare la struttura entro l'orario. Wow, che corsa, campione. Ehi! L'ultima volta che ti ho visto correre così, ti puntavo la pistola alla testa. Perché oggi era diverso. Hai ricoperto d'oro la nostra gente. Perciò direi che sei salvo. Ehi, hai visto, Poli? La polizia di Lost Heaven vi ricorda che è severamente vietato vendere e consumare alcolici. I trasgressori saranno arrestati. Grazie. Sei qui, grazie al cielo. Se il tuo amico continua così, chiameranno la polizia. Scusa, ora lo faccio smettere di fare baldoria. La mucca fa mo' la papera fa... Quack! Che pezzo fa l'uccello? Non lo so, ma il tizio della sicurezza dice che devi andartene a casa. È uno stronzo quello! Non conoscete spesso! Sì, hai ragione, ma anche io penso che dovresti tornare a casa prima di vomitare anche l'anima. Andiamo, campione. Ci sei stato davvero fotte, Tommy. C'è a guidare, Dico. C'avevo ragione. C'avevo ragione quando ti ho trovato. Dico, ho detto. Che cosa hai detto, Poli? Ho detto che questo qui guida da Dio. Don Salieri, questo è uno che guida da Dio. Eccolo che inizia. Va bene. Qui. Ecco dove siamo. E mettene in palazzo, Tom. Guardate, ora sei perfino... una specie di pilota professionista. Abbiamo tutti i nostri... Da quando ho sentito in famiglia sei andato alla grande. Ma finora sei andato bene, sappilo. E che sento abbiamo evitato le scassature di minchia. Ah sì? Tu non sai come sanno davvero le cose. Ti chiamano per incontrare il Don e la tua mente inizia a correre. Don, mi ho fatto cose orribili. Ci siamo dentro tutti. Faccio quello che chiede il Don quando vuole lui, proprio come te. Non sei proprio come me. Non sai quando devi chiudere. Prendi sempre da sempre. Che torno a casa da... da chiunque ci sia ad aspettarlo. Poli, sei ubriaco. chiudi il becco per il tuo bene. Sì, tieni ragione. Tieni ragione. Oh, ho voglia di farmi una ragazza. Ah, hai chiesto alla persona sbagliata. Ho detto portami dalle pollastre. Portami al Crucio Pixi. Non saprei, dovrei portarti a casa. E il ponte. Prendi il ponte per l'isola. Portami dalle ragazze, tu ho detto. Portami da quelle torcifichette. Non saprei portarti a casa, mi sembra più sicuro. E che minchia, a casa? Cioè, mi hai portato a casa? Ah, forse... forse... Cioè... è... è una buona idea, sì. Sì... ok, ora... Sogni d'oro, ragazzone. Sto per... sì... sì... Cioè, non mi sento molto bene. Cioè, non mi sento molto bene.